la riduzione del danno. La lotta democratica contro questa Costituzione dovrà ormai uscire dal Parlamento e svilupparsi nel Paese, fino al referendum. È una lotta di cui saranno protagonisti gli italiani, che francamente non meritano una Costituzione così deturpata. Grazie. Grazie. Non ci sono altri scritti sul complesso degli emendamenti. Passiamo ai pareri sugli emendamenti all'articolo 39. Onorevole Fiano. La ringrazio, Presidente. I pareri sull'articolo 39 per tutti gli emendamenti presentati sono di invito a ritiro e un parere contrario. Grazie. Onorevole Toninelli, 39.2 Cozzolino. Favorevole. 40. Favorevole. Invernizzi. Favorevole. La russa. Favorevole. 39.5 Gelmini. Toninelli. Favorevole. 40. Favorevole. Invernizzi. Favorevole. La russa. Favorevole. Grazie. Favorevole. Favorevole. 40. 40. Favorevole. Invernizzi. Favorevole. La russa. Rimetto all'aula. 39.7 Cozzolino. 39.7 Cozzolino. Toninelli. Favorevole. 40. Favorevole. Invernizzi. Favorevole. La russa. Favorevole. Favorevole.